So che tu, con altri dieci ragazzi, metà partigiani e metà fuggiaschi come te, in pieno conflitto mondiale, giocasti una partita di calcio contro i tedeschi che occupavano il tuo paese. Tu avevi 19 anni. La tua unica preoccupazione era correre, fuggire dalla guerra. Dei tuoi compagni, solo Mimmo Maurelli è vivo. Il tempo passa in fretta, mi ripeti, e oggi tocca a me riannodare la trama dei tuoi ricordi, che il tempo va sfilacciando un po' alla volta. Grazie per la visione!